Promuovere investimenti pubblici e privati, facilitare l'accesso alle risorse europee e generare un impatto positivo sul territorio sono gli obiettivi dell'accordo sottoscritto oggi tra Comune di Napoli e Cassa Depositi e Prestiti che con l'amministrazione cittadina ha già effettuato oltre 100 operazioni per circa 500 milioni e la rinegoziazione dei mutui alla quale il Comune di Napoli ha aderito nel 2020 e nel 2023. È un protocollo d'intesa che serve a collaborare, ad offrire consulenza da parte di Cassa Depositi e Prestiti su progetti in PPP, quindi in partnership pubblico privato che riguardano vari campi, quindi Cassa Depositi e Prestiti si mette a disposizione del Comune di Napoli per fare squadra come è giusto fare e com'è nella tradizione di Cassa Depositi Depositi e Prestiti per aiutare a sviluppare e a velocizzare la pregettualità su tematiche che riguardano anche il PNRR. Cassa Depositi e Prestiti offrirà al Comune servizi di consulenza tecnica e finanziaria per facilitare la realizzazione degli interventi di partenariato nell'ambito del Programma Europeo di Investimento per il rilancio dell'economia ed affiancherà lente in tutte le fasi di realizzazione dei progetti. Lo utilizzeremo per istruire e supportare tutti i progetti che noi abbiamo di partenariato pubblico privato, proprio in questa logica di attrazione di investimenti sui grandi progetti per la città, quindi avere questa partnership con Cassa Depositi e Prestiti per noi è molto importante sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista tecnico perché ci consente di avere una consulenza, un supporto ad altissimo livello per quelle che sono poi queste azioni di sviluppo economico della città che per noi sono fondamentali.